come ti chiami signor angela signora angelina dove arriva è dalla francia angela? ho mangiato le cochon con le moglie le cochon di paperette? si, si ma sei francese o alemane? è alemane, più francese e più cochon dai confini? ma si crede che sei confini? si, si, si sei proprio il borderline manichwine mia moglie si 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 questo lo mandiamo poi su yu 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 ah yu yu, tu com'è? sulle tue tube ok questi ci tengo questi qua da sera ti do ma parla in francese si, io parlo in francese come nei telefoni che bello che bello va sui avevo un po' di aspetta lasciami lavoro non mi piace poco entri, siamo tutti allo stesso sesso non si preoccupi dio mio però non mi piace 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 ti emozioni anche tu? si, sempre si, sempre si, sempre va a scegliere quando va a letto ponemi il rossetto aspetta che quando c'è il rossetto qual è il libro di ruggio? si, non spianto mio maiale mio maiale mio porco ma amore o porco? no, no, nix porco nix porco cosa c'è? si piano ma dolce no, non mi piace sa di malvasia che cosa sa? scusami alla varnaccia ce l'hai alla birra alla birra si